Ciao insieme! Questa notte non puoi avere l'ora in bledare per fare cose più importanti, nemmeno di cambiare l'ora. L'ultima fine di ottobre è cambiare il tempo di invierno. C'è la domanda di mettere l'ora questa notte delle strade sulle due. Qua vuol dire che lo puoi dormire un'ora più lonti. Per la paia, vengono la sera e c'è più buono. Dimena, non vengono di cambiare l'ora per quai c'è nessuno di stare sull'ora in l'unders di un'ora ma se buono. Non? In Mercredi, c'è stata un greff terratremble in Italia nella prima volta di quest'anno. Quest'anno in le regioni in mezzo l'Italia. Tuttintotto, c'è stata 200 terratremble in quella notte. Ma la sera la sett, e da vuole snuff, aia trembla il più ferme. Biaccase s'entrò nel greff terratremble rottes. Quest'anno s'entrò in prima terratremble o dell'escaz e dann dormiu in l'autos. E da un singul's blessei, di dintre morti, dintrò nel dalle case delle tremmelle persone distruite. In le regioni dell'Italia centrale che in Portugada, un'orto delle 10 case distruite e non sape più vivere in quelli. La regione italiana fa subito per di dà le regioni Portugada per poi spiegare le case alle parti dell'Italia. per di dà le regioni La regione, le camere, la regione, ciò che trovano la forza elettrica. E senza non direzziare che sia nua in questo studio. In nua mai potremmo decidere di incontrare quella forza. O meglio dice, non potremmo in mille case decidere che sia nua in Svizzera ovre atomare o nua. Quelle ovre atomare produzano di e noz elettricità. Ma non dovrebbero ad una listez blare la forza. Per cui ciò che c'è possibile di avere una buona forza elettrica. La svegherina di Daniel Scalina fa cazola sta ci e va in cucina fa solver. Per se vuoi facca cazola a cucina ha trovato elettricità. La demanda tra le 6 e le 9 le vena al sbjarschristi ha trovato feghi via elettricità. Noi troviamo durante il giorno di bodine tuttina via energia. Per esempio, non troviamo elettricità ma per singole causare. Per esempio, per la forza, il svegherina, le cazole s'invoie a fabriки che produceci di a noc. L'elettricità crea di 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 all'energia di 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 pi di 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 più di l'electricità. La prima volta che Daniel e le 6 vizie di Sveizzera si hanno trovato più di più di l'electricità. La energia di consumare. La energia di un'euro che produce un'euro che non si ha trovato più di l'electricità. La energia di un'euro che si ha trovato più di l'accomulazione. L'euro che si sa riconoscimento, con la batteria e l'energia da quella che non si tratta di più di elettricità. Quali lavori di accumulazione vengono cargati con l'energia di diverse lavori in Svizzera? Quali lavori atomali, idraulici, di vento e di solare? Durante un tiri, da te dino, non si tratta di più di più di più di energia. Perché l'elettricità, anche per tutti, e perché non si tratta di più di più di più di più di più, città dell'India. Che è una garantia, che Daniel alla serie Puspevon d'energia per mirare la televisione alla noc per svegliere in. In Grigion producina blera da quella energia maximale con ovres idraulicas, di mena ovres con agua, che è quasi energia su un cuomont, e per far da quai dovre ovres giganticas. Per mostrare la voce una, vai nella tramissa Mirko, che fuori in le montagne. Sì, inizia un pass lungomani che coligge il grigione col Tassin, lui è sempre buono sulleveze al mir del laccio di Sonche Maroia. È la varga 10 metri aul, 8 metri aul, a che le plai stanno a tenere la voce, si sono tassiati miliardi di litri aul. N'è un metro a un, c'è pausa, che smacano contro quel mir. La grandezza in una causa, anche se bella certe causas, a quella l'unico sarà, a cui declara noi Arnolf Flipp l'unico l'unico l'unico. Ancora ci sono 80 metri a un giù con l'Arnolfo. Arnolfo, ti ha strumenti controllo con il mio, se ci sono i problemi, come controlli? Inizia a tutti i amici, inizia a tutti i amici, inizia a trattare anche con le strumenti stilati, il guardiano va a trattare, a tutti i amici, inizia a trattare controlli, Questa è una zona di misericordia. Quando c'è il plomino, che è in sézione di l'aria, non si rincava e ne ha per mezzo il movimento che è un strumento colosso fa. A lui cance, vende quel mir lo senti a ferrino? Quel mir si muove nel 26 on tirone, a mezzo la crona si sono dentro 8-10 cm. Non vengono se faccia elettrici. Producivo vengono l'energia a sedrano. Ma un'energia a sedrano non si rincava un altro locale. Non vengono in una sala che avessi mai spiegao. Benveni, Mirko, qui è il centro, nella centrale. Grazie. Qui c'è un'altra parte, nella laua del Sant'Iumere, che ci vanno in più, che vanno in una maschina. Qui c'è un'altra parte che c'è un'altra parte che c'è un'altra parte che c'è un'altra parte. A tal velo si è finita mai un'altra parte. L'aua che produisce l'energia che fa il ruota vengono con i pedali. La energia che ti la ha esistono con i pedali, vengono con i ruota. E dal dynamo che produisce l'energia. Quindi fai un'altra parte che c'è un'altra parte che c'è un'altra parte che fa il ruota. Che c'è un'altra parte che c'è un'altra parte che c'è un'altra parte che fa il ruota. Quali maschina produisce in 3-5 minuti? Poi le nostre energie sono in comodo. Poi la nostra parte. Poi la nostra parte, sì. Alla parte. Toda la forza elettrica c'è quella d'overe in 4 anni, producce la quale d'overe in 1. Ma come ci trovo per fare l'energia? Non, sticciate la scuola e spregnate l'energia. No, Mirko, ce l'hai fatto? Ha, ha, mi sono un po' di te, naturalmente non è tutto in ordine. Ciao, ciao! Ha, ha, ficci lustiga. In mezzo a caso c'è il levadito. Qui ha dovuto guardare cinque lezze in cinque minare via e loro erano in a vo. Con la slackline, usc'è il nome da qui è 540 metri lunga e in giù vai a 400 metri. Ma quando è durabile, è in 5 metri fai. Sam vuolri è un sportista extrem, un profi slackliner. E la fin già messo, due ricord mondiali della balanza su lunges e c'è folle stragez. Osser lei salire per sé il terzo ricord mondiale e qui suri lei rivan. Monta la slackline, una greva, estentosa, lavour. La fina mira che ho hai, che Sam mette sin nieve ricord. Per domniare quel, sto lì su la suga spaziale a un vi adennao a qu'essenza curda. Todo è prompte a laura perfetta. Ma ottongi buple, Sam stové pazienza tocca l'outre de mone. Fai un po' schlafe, è sempre no fru. Aber chiede sicuramente wach werden da russi. Allez, Sam! Allù vai liber. E soffle, d'un ton balanza che Sam senza problemi sulle slackline. La mesedà del ricord al domeniau. Per la seconda mesedà, tongi bu. Laura ving mèndra a mèndra. Dì splittàt cuca Laura a i mèra am provo Sam da fa la seconda parte di suo ricord. La mesedà del ricord deve bo ienvigur. Treszt parla d'enton bo da d'essere. Sì, e Sam, se non v'è giusto vis, vera qui sta fin d'effena alla festa de jubileum di Cinggions il siti vest a quara. Là, esel balancia zur la slackline da d'una tor vincela. Bun, celesa d'una sdjura se lesu scebleres metters zur la terra. E per esser sincer, è provesat, sò n'eramo jentor, uscena slackline. Stos behamo, c'è tar in l'oe il gioccio può smontar quai. Questa, questa c'è mia mesureria. Ma è? Aspettai bè. Ok. Oh Mirko, adesso c'è mi solo la forza. Ho seno n'ha visto mia bella roda. Io no. Tschüss insiembel. Ciao. 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 Grazie a tutti